AC Milan Inside è un'agenzia stampa tinte rosso-nere diretta da Mikimo Sumeci, presto diventerà testata, news in tempo reali sul mondo rosso-nero, approfondimenti, intervisti, analisi pre e post partita, pagelle e molto alti. AC Milan Inside vuole essere un punto di riferimento per il tifoso rosso-nero e dà spazio anche ai tifosi di poter dire il proprio pensiero su tutto ciò che accade sul mondo milano. AC Milan Inside, oltre ad avere il proprio sito web, è presente su tutte le piattaforme social. Instagram, con un profilo che vanta oltre 139 mila persone, su Twitter con notizie aggiornate. Siamo presenti anche su Twitch, Milan Inside TV, con un canale che è pronto a tornare a fare dirette a tinte rosso-nero. Siamo su TikTok, presenti anche su Facebook, con una pagina nata da poco che vanta oltre 4200 followers.